Ehi, stai bene? Sono tutti morti. Questa è la morte. Ha cercato di colpirmi undici volte. Prendi anche me. Ma non è mai riuscita ad arrivarmi. Perché sono stato io più forte della morte. La morte ci cammini. Ma che diavolo è? Vero? Mi cammini dietro, piccolina. Ha visto qualcosa? Mi cammini dietro. Se ci sei, allora fatti vedere! C'è l'autostoppista. E che è dentro? Che cazzo fate dentro casa mia? Morirete tutti. La vita è il nemico. 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 Govelini, cobonti, elfi, eoni, fate. Vi scibate di che cosa? Della betulla, del fico sacro, della canfora, della mandragola. Ma chi sta entrando nella porta adesso? Chi sta entrando nella porta? Eh? Non aprite quella porta! Io non volevo nessuno in questo studio! Va bene.